Soprannome. Frankfurt Slasher. Numero vittime. 8 accertate. Modus operandi. Accoltellamento, squartamento, stupro. Frankfurt Slasher è lo pseudonimo dato ad un assassino seriale mai catturato che ha terrorizzato la regione di Frankfurt di Filadelfia, in Pennsylvania, Stati Uniti, per ben 5 anni, dal 1985 al 1990. A cadere vittima di questo spietato e misterioso soggetto, sono state 9 donne. La polizia collegò tutti i casi tra di loro, aprendo la pista del serial killer, dopo il ritrovamento della terza vittima. L'inizio di questa tragica storia è stato il 26 agosto 1985, quando è stato trovato il cadavere di Ellen Patent, una donna di 52 anni. L'attacco è stato feroce. È stata trovata in un cantiere ferroviario. Era mezza nuda, colpita da 47 pugnalate. Un numero altissimo. L'assassino le ha sguarciato il ventre, tirando fuori alcuni organi e posizionandoli sul corpo martoriato. 3 gennaio 1986. A pochi isolati dal primo ritrovamento, è stata trovata Anna Carroll, 68 anni. Il suo corpo, brutalmente scannato, giaceva sul pavimento della sua camera da letto. Anche lei era stata lasciata nuda e in una posizione provocatoria. Era stata pugnalata sei volte ed era stata sventrata, scoprendo le sue viscere. Il coltello da cucina usato nell'attacco è stato lasciato conficcato cadavere. Natale 1986. Susan Neolstzeff, 74 anni, è stata trovata brutalmente scannata. È proprio in questo momento che la polizia ha iniziato a fare dei collegamenti. Tutte e tre le vittime erano state clienti abituali del Gouldy's Bar, situato in una zona nota per i tossicodipendenti e aveva la reputazione di grande centro della vita notturna. 8 gennaio 1987. Jan Dirkin, 28 anni, è stata trovata morta, nascosta sotto un camion di stoccaggio appena fuori Frankfurt Avenue. Era stata pugnalata ben 74 volte ed è stata trovata in una pozza del suo stesso sangue. Era nuda dalla vita in giù ed era stata anche posizionata in una posizione sessuale provocatoria. Dirkin era una senza tetto che veniva comunemente vista dormire in un ingresso a poche porte dal Gouldy's Bar. Fu allora che gli investigatori si resero conto che un serial killer era in libertà. L'elevatissimo numero di pugnalate, sommato al successivo smembramento, e il fatto che denudava le vittime senza stuprarle ma posizionandole in posizioni umilianti, indicava che non c'era solo un muovente sessuale. Tutto questo indicava che il mostro portava una rabbia e un odio verso le donne indescrivibile, un odio terrificante. Gennaio 1988. Margaret Wogan, 66 anni, è stata trovata assassinata in modo simile alle precedenti quattro vittime. La polizia non aveva molti indizi e quindi ha iniziato a cercare testimoni, frequentatori del bar, riuscendo a creare uno schizzo dell'assassino che era stato visto bere con l'ultima vittima al Gouldy's Bar. 19 gennaio 1989. Teresa Shortino, 30 anni, è stata trovata nel suo appartamento, pugnalata 25 volte ed è stata trovata sul pavimento della cucina in una pozza del suo stesso sangue. Accanto al suo corpo c'era una sezione di legno di tre piedi con cui era stato usato per stuprarla selvaggiamente. L'assassino stava facendo dei progressi, l'efferatezza dei crimini stava aumentando. Non si limitava più a denudarle, ora le violentava. 9 aprile 1990. Il corpo di Carol Daud, 46 anni, è stato scoperto in un vicolo vicino a un mercato del pesce. Era stata violentata e accoltellata 36 volte. A causa della brutalità dell'attacco, i suoi intestini erano fuoriusciti dal suo corpo. Per questo omicidio la polizia ha arrestato un certo Leonardo Christopher, solo perché conosceva una delle vittime. Fu condannato a morte ma è stato un grosso errore giudiziario, poiché la polizia si era basata su prove minime. Infatti dopo sei mesi, nel settembre 1990, mentre l'uomo si trovava in carcere, è stato scoperto il corpo della trentenne Michelle Denner. Giaceva nel suo appartamento a solo un isolato da Frankfurt. Era stata violentata e accoltellata 23 volte. Il suo corpo era stato trovato in una posizione provocatoria e aveva un grosso taglio allo stomaco, dal quale il killer le aveva tirato fuori l'intestino. Un giorno prima del suo omicidio, era stata vista con un uomo bianco di mezza età che corrispondeva alla descrizione originale di The Frankfurt Slasher. La stampa e le persone iniziavano a fare pressioni, e non credevano che Christopher fosse colpevole. Accusavano la polizia di superficialità, focalizzandosi su un uomo innocente mentre là fuori c'era un pericoloso psicopatico che non smetteva di mietere donne. Da allora gli investigatori hanno affermato che non ci sono prove che indichino che Christopher sia The Frankfurt Slasher, quindi è stata sciolta l'accusa. È rimasto comunque colpevole di uno di quei delitti. Nonostante l'incessante lavoro della polizia, nel 2019 le indagini sono state ufficialmente chiuse. L'agghiacciante caso del Frankfurt Slasher rimane, per ora, un mistero.